Tv6 Eccomi qui amici e amiche di Tv6 e bentornati all'appuntamento col meteo per questa domenica. Si prospetta una giornata di transizione per le regioni centrali, mentre il sud fa reconti con nubi, piogge e anche qualche forte temporale tra Sicilia, Calabria e Salento. Torna qualche pioggia anche al nord, però notate sul nord-est, gran parte delle regioni centrali, cieli sereni o poco nuvolosi. Dunque il focus sull'Abruzzo per un fine settimana nel complesso variabile. Tante nubi al mattino, al primo mattino in particolare, ma non mi aspetto più note di maltempo. Poi nel corso della giornata tornerà qualche sprazzo di sole per una giornata nel complesso stabile, avara di precipitazioni. Le temperature massime in leggerissimo calo, ma appena 1-2 gradi, quindi valori attorno agli 11-15 gradi nei valori massimi. Le minime quasi ovunque al di sotto dei 10-9 gradi. Con questo concluso, noi ci rivediamo nel prossimo aggiornamento, sempre qui sul Tv6. Grazie a tutti.